Ci troviamo alla Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglia, luogo che dal 7 luglio è diventato lab vaccinale di prossimità per questo territorio. E oggi per il secondo mercoledì consecutivo ha somministrato vaccini appunto ai cittadini del territorio. Oggi però è stata una giornata ancora più particolare perché nella mattinata diversi sindaci dei territori circostanti si sono uniti in un unico grande appello alla vaccinazione. Un appello che arriva in un momento fuori dall'ordinario perché c'è la variante Delta che comunque resta una componente che costringe a mantenere l'attenzione altissima sui contagi, contagi che si combattono solo con i vaccini. E dunque oggi alla chiamata del sindaco di Vallefoglia, Ucchielli, hanno risposto presente anche i sindaci di Monte Labate, Monbaroccio, Monte Calvo in Foglia, Gabice Mare, Gradara e il vice sindaco di Tavuglia, tutti uniti nell'invitare la cittadinanza a vaccinarsi. Ringrazio i sindaci di tutta quest'area, di questo comprensorio che ruotano attorno alla Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglia per un invito a fare i vaccini. Oggi è il secondo mercoledì, dalle 15 alle 19 si possono fare i vaccini, quindi l'invito di tutti i sindaci è a vaccinarsi perché noi sconfiggeremo il Covid solo se una larghissima fetta della popolazione, io dico tutta perché è un fatto che riguarda le persone e la loro salute, la loro vita, quindi l'invito è a fare tutti i vaccini, si possono fare a Pezzolo, si possono fare a Gradara perché a Bice Gradara e la parte alta di Tavuglia, si possono fare qui anche per i comuni confinanti come diciamo Petriano, Monte Calvo, tutti quelli che vogliono fare i vaccini. Quindi l'invito e il ringraziamento va al personale medico e soprattutto alle persone che diciamo ruotano attorno ai sindaci, alle giunti, ai consigli comunali perché possono effettivamente vaccinarsi e affrontare l'autunno diciamo con la grandissima maggioranza della popolazione già vaccinata e a non subire colpi anche l'attività economica che come si è visto è ripresa a pieno. Ecco questo era il senso di questa visita alla Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglio. Doveroso per ripartire, doveroso nel rispetto di chi c'è vicino, delle persone più fragili. Quindi Monbaroccio è presente come la Valate di Pian del Bruscolo per questa iniziativa importante, per questo percorso che riguarda la salute e il benessere del territorio. Se vogliamo ripartire ripartiamo da questi punti, da questi centri vaccinali, altrimenti ogni chiacchiera è vana. Ho aderito subito all'invito del senatore Palmirucchielli perché è una cosa importantissima che tutta la popolazione si sottoponga al vaccino. È un fatto di scienza e di coscienza d'obbligo e doveroso per arrivare finalmente a riprendere la nostra vita normale che in questo periodo, diciamo, sia come attività economica che anche come vita sociale, è stata un attimino preclusa alla popolazione e a tutti noi. Noi a Montalabate abbiamo subito delle grosse perdite, purtroppo siamo un comune che è stato molto colpito dal Covid-19 per cui invito sentitamente tutti i cittadini a vaccinarsi. Capisco le opinioni di tutti, però in questo momento storico dobbiamo mettere da parte e remare tutti dalla stessa parte.